Salve a tutti Benvenuti a questa serie su MLB Radio Show Dov'è mettete con i nostri Nationals Vediamo una sconfitta Nella scorsa partita Io sto registrando questa puntata subito dopo Quella scorsa Eeeh Porca miseria E' Kyle Gibson Kyle E' il tuo momento da starter Il tuo momento da starter Noi siamo nella Ecco cosa mi sa cosa dovevo fare Dovevo prendere uno starter Si è preso Ha mandato via lo starter Ha mandato via lo starter Comunque dobbiamo fare turn over Adesso dare kill Non è in condizioni Ci metto Robles su Alex Cole Direi call Alex Cole Anche se Vabbè Alex Cole Quanta velocità Alex 82 Vabbè Era morse Meglio Robles 77 Cambia granché Vabbè Per quanto riguarda gli altri Possiamo provare comunque a farli giocare Diciamo che a posto di Chavez Ci metto Bobby Metto Bobby in seconda base Signori Bobby in seconda base E va bene così Per quanto riguarda gli altri Magari Stout Ecco posso mettere Robles Al posto di Stout Anche se così Vi è almeno un battito Che già siamo buone Già siamo buone Però figure Eh vabbè Però D'altronde Devo andarci A questa paniera Devo andarci Stout E comunque Stanco Ciao 66 velocità Vabbè Signori Andiamo così Andiamo così Ho dovuto fare un po' Qualche cambio ma Si spera che sia per il meglio Gibson Oggi a starter Ritorna tra l'altro a farlo starter Perché se lo ricordo male Io primissime partite L'avevo impiegato come starter Salvo poi Diciamo Obbittare Sulla Come posso dire Obbittare diciamo Sulla Scarsa stamina E preferirlo come Come rilievo Ecco Però Adesso ci ritroviamo Condizione che dobbiamo Forse usare lui Perché altre starter Non Si rilievo però Però Kyle Amico mio Kyle Amico mio carissimo Amico mio Kyle Ecco Due due Amico mio carissimo Fai già Questa Fatica Il primo lanciatore Meno male Che ha girato la mazza Cioè fatica Già col primo lanciatore Io Sono un po' preoccupato Ora Andiamo con la Palla Bobbi Bravo Bobbi Bravo Bobbi Bravo Bobbi Secondo eliminato Adesso E qua Vai Bobbi Palla Nationals Bene 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 Proprio Cutter Vai Cutter 1-1 Vediamo di slider C'è Ecco Spigolo in basso A sinistra Bella 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 Kyle Nagia Lamite 2-2 Kyle Kyle Sì Però Eh Sì Ciao Meno male che Bobbi E anche E anche Agile Atletico Però intanto c'è L'uomo in prima base Vabbè che Con due eliminati L'uomo in prima base Diciamo un po' Preoccuparmi Relativamente Bobbi Bobbi I passettini Bobbi Bobbi Non mi dire che ti sei imparato Pure tu I passettini Dai compagni Tu di squadra Perché Mi piglia L'embolo Mi piglia L'embolo Ah Comunque Come si chiama Ash 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 Tua Vabbè Minchia Questo lancia pure Forte Vabbè Ok Poi Abrams Bari Minchia Zero Uno Calma Calma Non devo avere Fetta di Calma Uno Ok E dai E in tutte basse Tutte basse Uno Due Porca mita Io però La levetta Vabbè Vabbè Due Due Ok Gamma Niente Primo eliminato Alex Con la battuta Ritorna La pose Alla turca E Foul Vabbè Niente Fa niente Fa niente Fa niente Fa niente Late Va bene Zero Uno Ok E La prende al volo No 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 Non la prende al volo È valida È valida Di Alex Call Bravo Alex Fa bene Alex Ok E adesso Menences Joyful Joy Joyful Joy Menences E valida Va vai Joyful Joy Va bene Va bene Dai Dai signori Dai Si può fare Si può fare Si può fare Adesso Carson Kelly Carson Kelly Mmm 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 Fine Mmm 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 Lo metti un po' così Bella Basi piene signori Son Basi piene Ok Va bene Va bene Va bene Ora Ora stiamo calmi Stiamo calmi Spengi lento Thomas Alla battuta Vai Ok Spino zero E dai Pettiamo Sotto pressione Sotto pressione Sotto pressione Sotto pressione Bella 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 Ti fa pure i due punti Ti fanno Pure i due punti Ti fanno Va bene Bella lì E Ale 2 a 0 Dai E adesso Robles Perché giro Perché giro Perché giro Era Ha Ha Tirato sulla Salerno Reggio Calabria Sta palla Che cosa Giro 0-2 Calma Poi Robles Io non so Perché C'è 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 Qualche Problema Con le Palle Più Vicine All All Lanciatore Alla Sinistra E' Valida Fermi Fermi così Va benissimo Così Basi piene Ok E Bobby Moce Bobby Moce Bobby Vai Bobby Tranquillo Tranquillo Bobby Tranquillo Bobby Vai Bobby Vai Bobby Che Va bene 0-2 Va bene Bobby Va bene Bobby Veri early Va bene Va bene Bobby Va bene Bobby Eeeh niente Non so cosa è successo Però va bene Comunque 2-0 Cioè Chiudiamo l'inning 2-0 Primo inning Chiudiamo 2-0 Bene così Non male Non male E qualcosa Non è tantissimo E qualcosa Ora l'importante Che non vanifichiamo Tutto come Nella scorsa Partita Diciamo che adesso Stiamo andando Stiamo Facendo decisamente Molte più valide Eeeh Però 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 Kyle Ti prego Ti scongiuro Ok 2-1 Eeeh Ok Slider Vai Kyle Slingoti Meno male Meno male Meno male Meno male Meno male Meno male Anche qua Stiamo pagando Ah In fase di Di lancio Di palla Quando si Lancia la palla Guarda Vabbè Santissima Però scusami Eeeh Scusa Posso capire Chi c'ho Come E Carson Scusa Carson C'è Vabbè Che non l'ha lanciata Benissimo Però C'è Che c'ha Saponetta Nelle mani Io giusto Per capire Allora Dai Dai Kyle Kyle Amico Kyle Amico caro Signor Signor Gibson Vabbè Prima Mane Mane Shots Oh Fino Lipsum Uno Va bene Circle Così E Uno E due Olè Meno male Chiudiamo l'inning 2 a 0 Oh no Non che chiudiamo Che sto dicendo No 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 Adesso siamo Secondo l'inning Fate battuta Vabbè Comunque teniamo Secondo l'inning Teniamo Adesso Candelabro Candelabro Alla battuta E la palla La prendono Perfetto Prima eliminato Mi sa che abbiamo fatto Il primo inning E poi Facciamo Come sempre Comunque Abrams Alla battuta Un eliminato 0-1 Dai TJ Mr. CJ E la Too late Vabbè 1-2 1-2 Ok Va bene Va bene Va bene Va bene Io perché L'ho girata Era Ball Sempre 1-2 E' bastato E' bastato Una decina Di giorni Non prendi Ma il suo gioco E No due settimane Dirlo O due settimane Sono bastate E' diventato Ti ho diventato Pippa Proprio 0-1 0-1 Calma Vabbè Ok 0-2 Poi Alex Devo stare calmo Devo stare calmo Devo stare calmo Devo stare calmo Allora Calma Signor Gibson Un'altra Gibson Signor Gibson Al Signor Gibson Io Non lo so C'è Ecco Io non so che gli pia Al Signor Gibson Signor Gibson Un po' C'ha qualche problema Non so Il problema è che Come starter Avevo La scelta obbligata Gibson mi sta dando Enormi problemi 0-2 Sinked Proviamo una Sinked Così Niente Io Comprovo A fare Qualcosa Di un po' Più F*** Vai 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 Bricati 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 Le uno Omi Seconda base E E siamo Mace Alex è tua Siamo messi tua E maria Signori però Cosa vi succede Amici miei Cosa vi succede Cosa vi succede 0-1 Ci serve uno start ragazzi Ci serve uno start Kyle Gibson E' meglio Tenerlo come rilievo Perché Perché sta Mi sta facendo Una fatica della malora Mi sta facendo Una fatica Indescrivibile E non c'è Plagge chiaro I thin finnati Che sto affrontando Qua Nella mia modalità Franchise In fase di battuta Non sono fenomeni Non sono affatto Dei fenomeni Sono Stanza scarsini E Gibson Tanto meno male Sono riuscito a chiudere l'inning Gibson Sta avendo in mani In difficoltà con questi Appena capita una squadra Con i battitori Un po' più seri E' un problema serio Quindi mi sa che serve uno starter Joey Menezes La battuta 1-0 Il problema è che Uno starter E' chi diamo Perché non possiamo Comprarli e basta Almeno che Non lo so Primo eliminato Carson Kelly È esso la battuta Vai Carson 0-1 Benelli Slider Ok Eeeh Va bene Non è vero Non è vero 1-2 Eheh 1-2 Ok Calmi 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 Maria Carson Madre Santissima Carson Madre Santissima Io qua non so Che devo fare Vai Thomas Madre Madre Niente Niente Terzo inning Finisce 2-1 Eeeh Vabbè Ma questo lo tiro Ok 1-0 Pulpen Allora Qua Se in situazione Si mette E recuperabile Eeeh Edwards Eeeh 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 L'abito Veramente Tanta simpatia Oggi Eeeh Eeeh Cominciamo Con le Con le chiamate Simpatiche E allegre Eeeh Cutter 2-2 Eeeh Cerco Alex Posto Terminato Dai Va bene Mazza Che fatica Che stiamo facendo Sì Sì Però Sì 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 Foul 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 1-1 Circle 1-2 Eeeh Sinked 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 Così Trivelata Sì Però Io non C'è Veramente Stati dicendo Sul serio Questa La chiami Strike Questa 2-2 Ancora Eeeh Slider Così Pinturicchiala Gibson Pinturicchiala Va bene Va bene Va bene Secondo eliminato Sono a quarto inning Già scappa Facendo una fatica 1-0 Io Mi madre Senti 1-1 Ok Slider 1-2 Ok Proviamo una cosa diversa Forte qua Dritta qui Ok Dai Dai Teniamo Quarto inning Teniamo Dai Adesso Robles Alla battuta Che può fare Robles 1-0 Dai Robles Dai Robles 2-0 Ok Venerobles Venerobles Maria Perchè Perchè Io Perchè 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 La vedo Buona La vedo Centrale Non lo era Nemmeno Perchè Vabbè Prima eliminato 1-0 Dai 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 Miranda 2-0 Va bene P miss Passiamo Calmi 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 Vediamo La centrale La baj 2-0 Perchè Prim gå Perchè 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 tre one Uno la lascio andare Per farlo Per farlo Stancare Perchè Perchè 3-2 E mo adesso Ok Power Vabbè Niente Secondo eliminato Adesso Bobby Vabbè Niente ci ha provato Bobby Ehi figliore anche quarto in Sempre 2-1 per noi Troppo poco Troppo poco Ho visto come Come siamo In che condiviso Che la condizione di Fragilità in Pee Ci ritroviamo adesso in difesa Un punto è troppo poco Un punto è troppo poco Siamo fragili Stiamo Stiamo tenendo Non so quale Quale miracolo divino Stiamo tenendo E Intanto slider Slider Olè Dai Siamo eliminati Adesso Con me la tradizione La prima La palla Nationals Ok Palla Intimiditoria Intimitoria Intimiditoria Non so come si dice Scusate Sto diventando Dislessico Prima per intimidire La prima per intimidire A prescindere Se va In strike Poi Poi il resto si vede Ti gioca Salute Uno fuori Starnutire Penso l'avrete sentito A casa vostra Probabilmente Circle Facciamo una circle Così 2-2 Direi una slider Così Pinturicchiala Alla del Piero Gibson Alla del Piero Maria Cut Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Ok Proviamo slider Però così Pinturicchiala Ok Andiamo così Secca Veloce Alex è tua Serenamente tua Alex Serenamente tua Serenamente tua Dai Secondo il mio Dai Stiamo facendo una fatica Che non è normale Siamo al quinto inning Siamo al quinto inning E c'ho Gibson Che E c'ho Gibson Che Che pure stanco E pure giallo di stamina Fortuna Me la posso rischiare Perché Un poco La posso rischiare Perché Le basi sono vuote Ci sono due Eliminati Ma Porca miseria 1 2 Maria Gibson Madre Santissima Gibson Per favore Gibson Per favore Gibson Pinturicchiala Del Piero E niente E niente E niente Ok Che c'è un problema C'è un problema C'è un serissimo problema C'è un serissimo problema Dobbiamo chiudere adesso Devi fare uno sforzo Kyle Devi chiuderla Ora Ora La devi chiudere adesso Questo turno Questo turno Deve chiudere 1-1 Non va bene così Se non chiudere adesso E' finita Se non mi chiudere adesso E' finita Vabbè Mi è finita Ragazzi Puta che metto il piede E' già lì E' già lì Si sta bevendo il caffè Che cazzo Ci metti il piede Niente E' finita E' finita Devo mettere Edwards Devo mettere Edwards E E questo Porterà problemi Sugli ultimi Lardo Adal Piero 2 Questo porterà Sessi problemi Signore Ti prego Dai 12 12-6 Cutter Di qua Thomas è tua Prendi la tua Ti prego È tua Ok Dai Teniamo Molto stento Anche questo quinto inning Sarà Problematico Perché questo Si stancherà in fretta Gli ultimi inning Dovremmo Farlo Non so come Non so chi lancerà Gli ultimi inning Comunque Candelabro 1-0 Non so chi lancerà Non so chi lancerà Gli ultimi inning Questo non ci arriva A fine A fine partita Eh Se lo porca Io non posso Avere Stasfiga Ogni volta Però Vabbè Niente Good Io ho eliminato Abrams Alla battuta Ok No Non è anche un call Secondo eliminato Alex call E questa era da battere Non è che dici Vabbè Oh Dai Una valida Una valida Abbiamo ricominciato a fare una valida Al quinto inning Dai cominciamo a fare una valida Bravo Alex Adesso Menenses Menenses 0-1 Ah Questo è problematico Mai Oh Signori 2-1 Signori Qua non è Il problema Non è Se non facciamo punti Il problema non è Se ci recuperano Ma quando ci recuperano Il problema è questo Sesto 12-6 Oh 12-6 Oh I curve Niente Slarve Pinturicchia La del Piero La del Piero Edwards Terco 2-2 Ma Dai Ma tutte così I cutter Comunque Contro Questi qua Che Insomma Ora Nei commenti Qualche puntata Fana Ed è detto Che è una squadra Nella realtà È una squadra Diciamo In ricostruzione Che però Sta facendo Insomma Abbastanza bene Io qua Meno male Tanto Primo eliminato Io Nella mia carriera I sin sin nati Sta squadra Non mi sembrano Una squadra di fenomeni Cioè Soprattutto in fase di battuta Lasciando perdere Lasciando perdere Lasciando perdere L'arbitraggio Che Come al solito È scandaloso In certi momenti Perché l'arbitro Ogni tanto Deve far vedere Chiaramente Il mestiere Di tua mamma Però Parte questo C'è Non Non mi sembrano I fenomeni Questo in fase di Fase di battuta Stiamo lanciando Male Malissimo Malissimo Io non Io non so Che cos'altro Dobbiamo fare 3-2 E cutter Facciamo una cutter Così Meno male Secondo eliminato Dai Dai Stiamo stentando Mario Ho sbagliato Tasto Slard Ok 2-2 L'avevo detto Signore L'avevo detto Questo ci inguaia Ancora di più di prima Perché Questo ci inguaia Perché Adesso nel migliore Nel migliore Dei casi Per come sta andando La partita Nel migliore Dei casi Noi queste Ci riportiamo Agli extra inning Io Ho già I rilievi Al Io I miei rilievi Ce li ho già Al Al minimo Thinner Che accercerò Veramente Ai minimi termini Cioè Rilievi Stanchi Cioè Rilievi Non ce la fanno più E io E probabilmente Ripeto Nel migliore Dei casi Nel migliore Dei casi Finisco Agli extra inning Nel migliore Gatti Finisco Agli extra inning Cioè Non Tanto Inturricchiala Meno male Aspetta Teniamo Cioè Teniamo Non abbiamo ottenuto niente Rivel Far fuori campo Del 2-2 E ci inguaia Ci inguaia tanto Ci inguaia tanto Hanno fatto una valida Più di noi Ci inguaia tanto Il fuori campo Comunque Carson Kelly Alla battuta Calambella È good Good in corno Primo eliminato Penny Ray Thomas Alla battuta 1-0 E Noi Non ne faremo Punti Cioè Ricordiamoci Faccio Fino al nono inning Non ne faremo Punti Io posso Sperare Con la regola Del No 2-1 E se cosa gira Con la regola Del L'ex training rule Di riuscire Non lo so A far qualcosa Considerando il tizio Mi parte Dalla Seconda Seconda base Magari Magari Si esce A far un punto E poi E poi speriamo In un mirato E poi si prega Fondamentalmente Comunque Questo Ma prima Non ne facciamo Punti 2-2 2-2 E Ecco Può servire Può servire Con due Un prima Abbafe Con due Eliminati E fondamentalmente Inutile Miranda La battuta Sesto inning Chiuso Sempre 2-2 Adesso al settimo E Getting tired Io ho sbagliato Tasto Di nuovo Beato tasto Di nuovo Alex E tua Per favore Prendi E tua E tua Prealiminato Dai 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 Faccia ventimidire Ok The rule Poi Slav Pinturicchi Cutter 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 Sono in guai Edwards E stanco Edwards E stanco Sono ancora Pieno Settimo Inning Con un solo Eliminato Sono in guai Sono Chiaramente Nei guai Proprio chiaramente Evidentemente Nei guai 3-2 E Devo fare così Sì però Candelabro Porta Nangiala Vabbè Signorine Chiara dicevo Ricordate come dicevo Nel migliore dei casi Andiamo gli extra inning Non mi preoccupate La perdiamo prima Perché non Non c'era Chi 2-1 Circle E fin E fin Be Catt Catt O alto Qua Così 3-2 E Qua Così Seconda Minata Ma uomo in seconda base No No è per Termi No Non Non Prima Emanation 0-1 Poi Slard Olè Spero 2 Dai Eh mio Setti Resisti Olè Dai Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Che non è vero Va bene Va malissimo Va tutto malissimo Va tutto malissimo Tutto malissimo Bulpen Chi ci va Chi ci manda Al bulpen Mia sorella Ci manda Al bulpen Chi cacchio ci devo manda Finnegan Vai Finnegan Al bulpen Va bene Bobby Alla battuta Amma mia Questa paglia Mi sembrava Centrano 0-1 0-1 1 Cerchiamo di stare calmi Vai Bobby 1-2 Calmi E non li faccio Non li faccio Non li faccio Candelabro La battuta 1-0 Ehi Candelabro Vai Candelabro 1-0 Ehi Niente Tenendo 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 Eliminato Proprio Non C'è Speranza Proprio Abrams Lui c'era Ben bello Fresco Riposato Lui Abrams Abrams Battuta Di Abrams Palla In Paul 2-1 Perché Ho girato Vabbè 3-1 Ora lascio Andare Per farlo Stancare Poi vediamo Bene Abramsi in prima base Per cui la può servire Adesso Alex Colla La battuta Dai Alex Vabbè Settimo inning Ti giuro sempre 2-2 Finnegan E' pronto? Vai Finnegan Tutti in game Bullpen Al suo posto Esso scimetto Britton E poi Ho finito Poi mi rimangono Harvey e Arano E poi Li ho finiti Li ho finiti Li ho finiti Ok 0-1 Dai Finnegan Lì Calde Labbro L'ABS Calde Labbro L'ABS Fatti controllare L'ABS Ti sei fatto 30 km Prima di Fermarti Con la palla Con la palla In mano 0-2 E Splitter Così No Splitter Così Problem Problemino Problemino Ha girato la mazza Ha girato la mazza E no E no Sesse E no Vabbè Dai No Ha girato Ha girato Chiaramente La mazza Porca Ok Abans Bravo Subito Così Benissimo Secondo Il minato Dai Ok Prima Parla Nationals 2-1 Slider Ma così E' un'arca Puttana Thomas 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 Annaggia te Thomas 0-0 Qua così Due E li faccio di nuovo proprio Un passo di là Bobby Tre a quarti d'ora ci hai messo Bobby Ma va bene 2-2 Non ho fatto comunque due valide in più Rispetto a noi Questo è un dato importante Purtroppo Ora ecco Questi qua Menenses E niente Menenses ci ha provato ma niente da fare Oh morca miseria Le batte ne prendo Ma fanno tutte male Oh è valida È valida Fermati 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 È valida Mi ha fatto una valida Carlson Carlson Kelly ha fatto la valida Ok Adesso Thomas E niente Thomas 0-1 Calma Calmi Calmi 1-1 Ok 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 2-1 Va bene Dai Dai No era bollico Fai giro 2-2 Calmi Non l'ho vista Non l'ho vista Per un attimo Mi tono illuso 2-2 Eh ciao Oh niente Non niente Non ce la si fa Proprio E' un nono inning E' un nono inning E' un nono inning 1-1 Io devo Devo tra l'altro Anche C'è il senso Io Che devo Che cosa Devo fare Provo film Provo film Secondo il minato Ok Va bene Va bene Va bene Va bene Fin Va bene Fin Va bene Fin Slider No Non è Ho sbagliato Ho sbagliato Tantissimo No Alex è tua Alex è tua Posto Ok Teoricamente ci servirebbe un punto Uno Se ne servirebbe Uno Uno Jose Milanda Perché mi evidenziano Jose Milanda Che Pinder Che Hanno fatto la sostituzione Col corridore Vabbè E adesso Robles La battuta 0 Valida Ok Valida E' una valida Ok Scusate E' una valida Ok E' una valida E' una valida Dai Jose Milanda Alla battuta 1-0 Dai 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 2-0 Dai signori Dai Miranda 3-0 E' una valida Lascia andare 2 Ne lascia andare E tirerà ultra centrali Ma me ne frega niente Lascia andare Lo faccio stancare Lascia andare 3-1 Ok Me ne frega niente Lo lascia andare io Non è che la prossima Lascia andare Va bene Adesso Torniamo in gioco Dai Ok Calma Fao Va bene Vedi late Ok 3-2 Dai 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 Miranda Dai Miranda Fao Fao Di nuovo Un Raffa Però Porca Mi Tera La bolla Vabbè 3-2 Calma Calma Eeeh Eeeh Nooo Nooooo Oh bobbio Finito Oh bobbio Allora Oh bobbio Fa il fuoricampo O la perdiamo C'è non è che O fa il fuoricampo Bobbio O la perdiamo Non è quei Non ci sono altre alternative Perché c'è Perché gli extra inning Non abbiamo Non noi lanciatori Non ho Non noi lanciatori per l'extra inning Non noi lanciatori per l'extra inning C'è Britton Put in game Vai Britton E ora Britton Ma io non Madre Ma c'è questo Poi è finito Vabbè 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 O ci ho trovato E' andata E' andata E' andata E' andata E' andata Ok Dalbeck Dobby Tua Post 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 Ma è andata Ma è andata Solo di portare A termine Stta partita Dovremmo fare due punti Noi dovremmo fare due punti Per restare in gioco Dovremmo fare due punti Al prossimo Inizio Ora in fase ribattuta Abbiamo fatti due In tutta la partita C'è Raga Non ce la facciamo Non ce la facciamo Non ce la facciamo L'unica speranza era riuscire a non subire punti E poi con E poi fra con Non lo so Fra un bunt e l'altro Fare un punto E vincere così Era l'unica speranza Ma Niente Lo schema Ma la La tattica cosa è saltata Nel momento che ha fatto Il tocco di campo E Che ha fatto Sti due punti E Saltata La cosa è saltata E quindi Niente Pazienza 1-2 Portiamo a termine Questa partita Perché dobbiamo Già è stanco Britto Già stanco Già stanco Io Io Miranda è tua Vabbè Io La prossima partita Con quali lanciatori Dovrò farla Questa Sarà Sarà Boh Sarà mistero E Alexis Diaz Giustamente Vabbè Candelabro Una battuta Vediamo che si riesce a fare Non so E Uh 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 Va bene Dove un play Abbiamo fatto un punto Double plays Va bene E adesso Abrams Alla battuta Adesso Abrams E Va bene Va bene Va bene Va bene E' andato in terza base Quello E' andato in terza base Quello Va bene Ora Alex Call Alla battuta Vai Alex Vai Alex Fall Ma non c'è un problema Vai Alex Vai Alex No 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 Cosa è giro Cosa è giro GV2 Calmo Calmo Mi sono fatto Prendo troppo Calmo 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 vivi, non so come ma siamo ancora in gioco siamo ancora in gioco, non so come non mi chiedi vabbè, Menenses 1-0, dai 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 Joy che stifezza di battuta siamo rimasti in gioco io non so come abbiamo fatto ma siamo rimasti in gioco minchia, siamo pari in tutto e per tutto costi disgraziati vabbè stai in gioco giustamente TGT Tired io che devo 0-1 e Tinked 0-2 no ma non non mi faccio più la minchiata del del Maria Tinked senti si prima di minacca, dai 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 devo purtroppo devo per forza tirare il più possibile co-co-britton devo cercare di tirare il più possibile perché gli altri sono quello che sono 0-2 e ancora 0-2 no slider porca mia patch ole sono dominato dai su forza 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 ok 0-1 eeeh Tinked per due Tinked così semplice 2 slider no 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 E' finita Arano vai te Arano vai te finita è finita è finita devo cercare di tirarle il più possibile perché avete visto che cosa mi è rimasto di Sinked Sì però Arano ti prego per 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 Sinked così vai fau 3-2 adesso slider Miranda è tua serenamente tua serenamente tua ok hanno fatto un punto e questo è problematico è altamente problematico abbiamo fatto due punti e e e a menenza e spartirà merda 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 rimpiazzo sì Derek vai Derek Hill 96 velocità ok Carson Kelly alla battuta calma 1-0 bene ok ok calma 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 1-0 ok dai 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 Quanto sono pollo io Quanto sono pollo io Ma io ho eliminato Foul 0-1 Niente Il bunt non li so fare Mi sembrava Foul 0-2 Ropless è la battuta Foul 0-1 Niente Niente Oh Foul 0-1 Sì Siamo ancora lì Siamo ancora lì Siamo ancora lì Siamo ancora lì Miranda Io non so come ti devo lanciare Poi Poi Prossima penso Lancia la mia nonna penso Prossima Io non so Vabbè comunque Miranda la battuta 0-2 Ma questo è un altro E questo è un altro sanò eh Sto Miranda E' un altro sanò E' un altro che è teoricamente forte Ma la palla la prende col quasi 1-2 Dai 2-2 Ok 3-2 Grazie arbitro 3-2 Ok Prima sono il basso occupato Vabbè Dai Noo che runner Noo no no Quale runner Che cosa devo dire che runner Ah ti stesso sono runner Che devo fare Bobby Dahlbeck Bobby Aaaaaaah È Harley Vabbè 0-1 Dai 0-1 Ok Calma 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 Uh Bella 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 Pottone No! No! Madre... ...attissima! che miseria che partita madre santissima che partita madre santissima io poi impadisco prossima partita rilievo ci vado io ci vado io come rilievo prossima partita probabilmente ci vado io come rilievo non lo so comunque today's games allora i Brewers battono Chicago 3 a 0 poi che abbiamo come dove i Mets ma gli altri che fine hanno fatto non giocano non gioca nessuno degli altri gioca nessuno vabbè niente allora avanziamo fix all quello che vuoi Mets hanno vinto Mets hanno vinto Brewers pure e Padres hanno perso ok è normale che questa l'abbiamo vinta madre santissima madre santissima mamma mia io ora veramente ce la vedere come transaction fermi tutti perché io mi ha fatto un altro capolavoro dei suoi che mi ha preso stu stu Miranda che è che è questo e allora call it up chiamato va bene scusate un attimo transazioni fatemi complito che capito che prego Red Sox Red Sox hanno tirato è mia che me ne fu c'è chiaramente non sa me è mia che me ne fu i Red Sox che hanno tirato su con tutto il bene cioè va bene comunque signori in qualche modo l'abbiamo vinta ci stiamo mettiamo qua e tiriamo l'appuntamento la prossima aiuto